Il problema Bibiano, come ho detto prima, è un problema che riguarda tutta l'Italia. Assistenti sociali, tribunali dei minori, consulenti, è un unico problema. E come ho detto prima, è la punta dell'iceberg. Perché nel momento in cui viene allontanato un bambino con una semplice valutazione di un assistente sociale e questa valutazione viene avvallata dal tribunale, il problema tutto sommato non sta nell'assistente sociale, ma sta nel tribunale. Sono i giudici che emettono i provvedimenti e sono i giudici che devono rispondere alla giustizia e devono rispondere alle famiglie. Troppo facile sono gli allontanamenti, troppo facile sono delle firme, troppo facile sono delle copie in colla tra le relazioni e i provvedimenti del tribunale. Questo è un problema che deve essere affrontato immediatamente dal legislatore.